è una sfida fondamentale quella di oggi qui al club azzurri la quindicesima giornata di campionato è tra Brescia calcio femminile e Fiorentina women's una gara che promette grandissime emozioni e ora un minuto di raccoglimento per la tragica scomparsa di Davide Astori capitano della Fiorentina è tutto pronto fischia Molinaro batte da Legic il lancio lungo subito di Giuliano a cercare Hendricks sulla sinistra nulla di fatto il rinvio errato di Ceasar è il tentativo da lontano di Bonetti Rinaldi dalla destra al calcio di punizione sulla tre quarti va il cross in mezzo Daniel la palla è fuori c'è Erum sulla sinistra il suo fallo laterale battuto per Giacinti in area prova a liberarsi l'attaccante ce la fa il suo cross in mezzo c'è Sicora attenzione intanto di Criscio richiama l'attenzione dell'arbitro e dello staff medico nel ginocchio sinistro e non ci voleva un'altra tegola per il Brescia calcio femminile dopo gli infortuni di Marchitelli e soprattutto di Bergamaschi e Scembarella il difensore c'è Ceasar con la palla fra le mani pronta al rinvio ma arriva il fischio della fine del primo tempo di Molinaro qual club azzurri brutto primo tempo influenzato dal maltempo C'è Erum sulla sinistra si libera di Guagni il suo cross in mezzo la deviazione di Rinaldi diventa pericolosissima Giuliano sulla sinistra guarda in mezzo il suo cross d'esterno per Girelli non arriva sul pallone Tomaselli a centrocampo Girelli bellissimo il suo passaggio per Giacinti che si libera di Linari Giacinti blocca Auerstrom Sicora il suo cross sulla destra la sponda bellissima di Giacinti Daniel prova a respingere Giacinti recupera la sfera atterrata da Auerstrom ma Molinaro non fischia ma com'è possibile? era rigore netto Molinaro fa finta di niente Adami prova il disimpegno fermata da Giuliano Tomaselli da fuori prova il tiro a lato di un soffio Girelli il lancio verso Sabatino che controlla la sfera lo scarico per Tomaselli il suo tiro deviato da Daniela ancora Tomaselli vicino al gol Girelli imposta per Hendrix il suo lancio lungo per Mendes che scivola ma la portoghese recupera la sfera al suo cross in mezzo Linari bucca Giacinti 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 il gol del vantaggio delle leonesse con Valentina Giacinti Guagni prova a andarsene ma Giuliano le ruba la palla Giuliano da fuori Giuliano Eustra mette in corner Secondi finali della partita Girelli rinvia E arriva adesso il fischio finale di Molinaro Il Brescia calcio femminile si impone in una partita pazzesca contro la Fiorentina Vince 1 a 0 e continua il suo sogno Scudetto Edito Androna Iscriviti a free E rendita It곳 E rendita It Ed